Buongiorno a tutti, partita che ha avuto un grande dispendio di energie fisiche, nervose e poi c'è sempre la storia di meno giorni di recupero adesso rispetto alle squadre che affronterete, Juventus incluso, avendo avuto una settimana per preparare questa partita. Volevo un po' sapere a che punto è la gestione del recupero perché diversi giocatori hanno sofferto anche dal punto di vista muscolare, abbiamo visto Mancini, Spirassoli, a che punto è la situazione? A punto iniziale, anche se manca poco è iniziale perché oggi dovremmo fare altre analisi della condizione fisica e proprio di qualche problemino che ci siamo portati dietro dall'ultima partita. Quando giochi giovedì domenica è abbastanza tosta prepararla come contenuti sia a livello tattico-tecnico sia a livello proprio fisico per rientrare in condizione, però questa è una squadra che è abituata, perché sono diversi anni ormai che fa percorsi lunghi in Europa e dobbiamo essere pronti a fare altre grandi partite perché abbiamo poco tempo sempre per preparare le partite, ma questo è il bello e il brutto di arrivare in fondo in Europa. Le valuteremo oggi queste condizioni, abbiamo solo chiacchierato ieri, ma il primo giorno è sempre un giorno dove anche l'aspetto emotivo, quindi la sconfitta, ti porta a sentire qualche dolore in più. Quando vinci, il giorno dopo arrivi, stiamo tutti bene, vogliamo giocare e oggi analizzeremo un pochino più in maniera accurata quello che è successo, anche se non credo ci siano infortuni veri e propri. Vespasiani, SRoma.com La Juventus, Allegri fa parte un po' di quella categoria dei risultatisti, è molto criticato per il gioco, però alla fine i risultati li porta a casa spesso. Le chiedo come si affronta la Juventus che ha sicuramente grande forza nei singoli e magari meno di squadra, però è sempre una squadra molto molto difficile da affrontare. Intanto quello che riguarda Allegri si affronta con grande rispetto, rispetto per un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano e che continua a guidare una squadra a livelli alti, dall'altro io provo simpatia per lui perché giocava con mio padre e mio padre mi racconta di quando questo ragazzo molto giovane giocava con lui, quindi da sempre l'ho accompagnato nel suo percorso con simpatia. Risultatisti e giochisti non commento più, già mi sono espresso, secondo me non esiste, alleno da pochi mesi e mi rendo conto quanto sia difficile vincere una partita, arrivare fino in fondo in una competizione, quindi non potrei mai avere meno del rispetto che ho per allenatori come Allegri, come Morigno, Ancellotti, questi che hanno fatto la storia del calcio e continuano ad allenare ad alti livelli. La Juve si affronta come tutte le altre squadre, insomma, con un bel po' di preparazione, di conoscenza perché devi sempre avere bene, chiaro in mente chi hai di fronte. È una squadra che ha avuto un periodo non positivissimo di risultati e ha alternato, secondo me, partite molto buone come con la Lazio in Coppa Italia all'andata, a Torino, partite meno buone dove ha sofferto parecchio e quindi dobbiamo essere consapevoli che è una squadra che sicuramente vorrà mettere punto sul discorso qualificazione Champions League. Noi abbiamo bisogno di punti e siamo convinti di potercela fare, anche perché giocheremo in casa. Abbiamo bisogno di un'altra prova eccezionale da parte dei nostri giocatori, ma un'altra prova fenomenale dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno che ci continuino a spingere per altre 4-5 partite, quelle che saranno, perché dobbiamo arrivare fino in fondo, come abbiamo fatto, sempre insieme a loro, spalla a spalla. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Io volevo chiederti questo, domani sarà chiaramente una partita speciale anche per Paolo Di Bala, ecco, come sta Paolo in questo momento? Se ce lo possiamo aspettare in campo domani, considerando appunto che dicevi che è una partita da vincere, perché se la Roma vince va a meno 2 del Bologna e a meno 3 dalla Juve. Guarda, a volte mi nascondo un pochino, non mi piace dirvi la formazione e darvi troppe notizie, stavolta veramente è proprio vero, non so ancora come stanno i ragazzi, li vado ad incontrare fra qualche ora, parleremo, oggi faremo un allenamento non troppo pesante, più di preparazione alla partita rispetto a quello che andremo ad affrontare, quello che noi andremo a fare, ma domani mattina ci prenderemo un'altra mezz'oretta, 40 minuti per fare una rifinitura che di solito non facciamo, ma giocando la sera ce lo possiamo permettere avendo i campi qui a Trigoria, scendiamo in campo anche domani e facciamo le ultime due o tre cose, quindi ci teniamo riservo, mi ritengo riservo anche con loro per dirgli la formazione perché voglio sapere come stanno, però Paolo insomma, al di là che sia un ex sta benissimo, sta bene, è triste per la sconfitta penso come tutti, ha corso tantissimo, fisicamente sta avendo delle prestazioni importanti, è un giocatore che secondo me più mi sta stupendo dal punto di vista fisico perché sta dando tantissimo sia in allenamento che in partita e poi dal punto di vista tecnico insomma lo conosciamo l'abbiamo visto tutti quanti, quello che ha combinato in questi mesi. Grazie. Roberto Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno Daniele, la Roma ha fatto 18 punti su 33 dopo l'Europa League, non considero Udine perché è stata giocata in due tranche, quindi è chiaro che l'Europa League non solo per la Roma diventa una grande fatica oltre che una grande tentazione, in questo momento con quello che è successo giovedì che un po' compromette la qualificazione nella finale, si sceglie, si va tutto sul campionato, si cambiano le priorità proprio nella gestione dei calciatori intendo? La frase un po' compromette vuol dire che non è compromesso niente, è sicuramente più difficile di quanto non lo fosse già perché era già un'impresa secondo me molto difficile, sarà ancora più difficile perché dobbiamo andare a fare un risultato già difficile di per sé contro una squadra che per 47 partite non ha mai perso e quindi sappiamo che sarà un'impresa molto tosta ma possiamo farla, l'abbiamo fatta, l'abbiamo visto, l'abbiamo fatta noi con la Roma nel recente passato, l'ha vinto l'Atalanta al Liverpool 3-0 poche settimane fa. Nel calcio tutto può essere e vedendo la partita d'andata, che se ne dica, anche la stessa partita fatta d'andata, se magari gli episodi della prima mezz'ora fossero girati magari al contrario, si sarebbe aperto un altro scenario e anche a ritorno, magari facendo un gol nella prima mezz'ora, non dico dopo due minuti, nella prima mezz'ora, nel primo tempo, chissà cosa andiamo incontro per il resto dei 45, per gli altri 45 minuti, quindi insomma siamo in semifinale e non facciamo questi calcoli, è un sogno per noi, è un sogno per i nostri tifosi, percepiamo quanto loro ci tengano, non ci possiamo permettere di fare ragionamenti strani, ovviamente dovremmo gestire le forze anche perché il campionato è importante per noi, dobbiamo arrivare nei primi posti che valgono la Champions League, quindi faremo delle scelte, non potranno giocare gli stessi 11 che hanno giocato ieri, che l'altro ieri, domani e gli stessi 11 contro il Bayern Leverkusen lì in Germania, perché sono scelte che vanno fatte automaticamente, ma non molliamo assolutamente nessuno dei due obiettivi. Di Dio, giornale. Buongiorno De Rossi, volevo chiedere un ricordo delle sue partite con la Juventus, se c'è qualche partita in particolare che ricorda maggiormente, visto che comunque ne ha giocate tante, sono state tutte sfide ovviamente di alta classifica e l'importanza di questa insomma è pari a quella degli anni precedenti. Grazie. Ne ha giocate veramente tante, quindi non mi aspettavo questa domanda, non ho... Guarda, una volta abbiamo giocato una partita al delle Alpi, ancora nel delle Alpi, perdevamo 2-0 e sono entrato, abbiamo pareggiato all'ultimo, se non sbaglio segnò Zebinà. Ero molto, molto giovane e era ancora in quella fase in cui tutti questi risultati importanti, negli stati importanti contro squadre così forti, mi sembravano veramente una cosa nuova, perché lo erano, ma mi sembravano un sogno. Quindi quella ricordo, ne ricordo una sotto la neve in Coppa Italia, abbiamo vinto 3-1, 3-2, e poi abbiamo perso di misura qui a Roma, quindi siamo passati, se non sbaglio, in finale. Tanti episodi, tante partite perse, anche quelle, però ci sono, ci sono, ho bei ricordi, ho bei ricordi. Forse, forse, il più negativo fu una partita che dopo che abbiamo perso, credo che si sia dimesso Spalletti, era un momento iniziale del campionato, abbiamo perso contro quella squadra di Felipe Melo, Diego, eccetera, eccetera, e abbiamo, sì, io feci gol, ma abbiamo perso, si è dimesso Spalletti, quella settimana fu tanto, tanto tosta per noi. Però, insomma, questi sono i ricordi, ne abbiamo giocati tante, se le posso citare tutte, non ho una grandissima memoria, sicuramente è un grande avversario da sfidare, è bello sfidarlo all'Olimpico perché sappiamo che ci tengono i tifosi e perché c'è una vostra in pallio che per noi è altissima. Grazie.